La situazione prevede tutti i servizi attivati nella condizione della massima allerta. Abbiamo avuto 10 casi, 7 a Udine e 3 a Trieste che sono stati verificati e hanno dato degli esiti negativi. Vertice nella sede della protezione civile a Palmanova con il presidente Fedriga e il suo vice Riccardi che hanno firmato la dichiarazione dello stato d'emergenza per fronteggiare i rischi sanitari da coronavirus nella nostra regione. Tra le 10 persone risultate negative ai test, come le altre 20 già monitorate nei giorni scorsi, ci sono anche 3 medici dei reparti di infettivologia della provincia di Udine in isolamento a casa poiché sono entrati in contatto per un corso d'aggiornamento con colleghi dell'ospedale del Padovano dove sono stati ricoverati alcuni pazienti contagiati. Abbiamo anche noi dei medici che sono in stato contumaciale perché si sono trovati a dover gestire insieme ad altri professionisti proprio in Veneto nei giorni scorsi, ma la situazione è sotto controllo e adesso stiamo esaminando la possibilità di individuare due strutture sul territorio regionale in maniera che di fronte a delle condizioni di rischio ci possano essere dei luoghi nei quali poter isolare delle persone che potrebbero presentare dei profili di rischio. Intanto si registra a Monfalcone il primo caso regionale di quarantena per accertare l'eventuale contagio da coronavirus. Si tratta di una donna di origine cinese che vive e lavora a Monfalcone che è tornata dalla Cina lo scorso 17 febbraio. La donna non presenterebbe alcun sintomo, ma per lei, come da prassi, sono scattati 14 giorni di monitoraggio in attesa di conoscere l'esito degli esami cui è stata sottoposta. La nostra regione ha richiesto di prevedere controlli anche sui confini terrestri per monitorare gli ingressi sul territorio nazionale. Importante il messaggio che il vice governatore ha voluto lanciare ai cittadini del Friuli Venezia Giulia. La raccomandazione alle persone è quella di rivolgersi al numero unico, al nostro 112, in maniera che il 112 possa riuscire a dare quei consigli giusti senza che i cittadini si spostino o vadano a cercare delle risposte inappropriate anche utilizzando percorsi sbagliati. Quindi il suggerimento e il consiglio che noi diamo è quello di chiamate il numero unico dell'emergenza e quello sarà in grado di darvi la risposta.